Ragionevolmente avremo le scuole chiuse fino a fine anno scolastico. È molto complicato far convivere il diritto all'istruzione con la tutela della salute, col diritto alla salute, anche perché il rischio è elevatissimo di scatenare un nuovo innalzamento della curva di contagio nel caso in cui dovessimo riaprire le scuole, quantomeno in questa fase. Ci dicono tutti gli studi, tutte le raccomandazioni degli scienziati e degli esperti che avremo una nuova esplosione probabilmente nel giro di una o due settimane. Così ieri sera il premier Giuseppe Conte durante la sua conferenza stampa ha comunicato ufficialmente che la riapertura delle scuole ci sarà solo nel mese di settembre, quando nel mondo scuola arriveranno nuove assunzioni a partire dai precari. A queste parole hanno fatto eco quelle della titolare del dicastero della scuola Lucia Azzolina che si dice addolorata per questa decisione, ma che comunque ritiene giusta. Al contempo però il ministro si dice fiduciosa per gli esami di Stato in presenza, per cui nei giorni scorsi c'è stato l'ok anche del Comitato Tecnico Scientifico, sempre garantendo però le distanze di sicurezza. Sicuramente come misura di sicurezza la capiamo, la rispettiamo, però c'è un po' di rammarico perché significa dover organizzare e pensare ancora di finire l'anno scolastico con questa modalità a distanza. I ragazzi stanno studiando, stanno dando il meglio e anche i docenti non si sono trovati assolutamente impreparati in questa nuova modalità di didattica a distanza. Chiaramente poi bisognerà per noi dirigenti per disporre tutte le misure di distanziamento opportune. Io in realtà già ci stavo lavorando con tutto il mio staff, pensando di mettere a disposizione tutti gli ambienti del MUST, inizialmente pensando di poter fare anche la prova scritta. Adesso chiaramente si parlerà di un'unica prova e per questo credo che le misure di distanziamento siano più semplici. Abbiamo già adottato le misure per la sanificazione dei locali, quindi ci stiamo portando avanti con tutto quello che può essere fatto adesso, al momento. Abbiamo un palazzo importantissimo che adesso necessita di poter essere riaperto. Si parlava anche della riapertura a settembre con le misure di distanziamento. Pensare alle misure di distanziamento nelle due sedi che attualmente ospitano i miei studenti significa veramente dover andare a finire i doppi turni. È un'esperienza che il Marconi ha già vissuto ed è un'esperienza drammatica considerando il nostro bacino d'utenza. A volte questa didattica a distanza è proprio impossibile da effettuare in alcune famiglie, perché oltre ai problemi di connessione, che sono veramente tanti, oltre ai problemi di strumentazione, ci sono anche i problemi proprio emotivi legati a questo maledetto virus che è entrato nelle famiglie e che magari ha occupato tutta la sfera emotiva di queste famiglie. Ci sono famiglie in cui sono venute a mancare delle persone per il virus, quindi è l'ultimo dei pensieri, purtroppo, quella della didattica a distanza. Quindi il nostro messaggio è soprattutto in questo momento di solidarietà e di comprensione. Poi ci sarà tutto il modo per poter recuperare. L'importante è che la scuola continua ad essere un punto di riferimento forte per queste famiglie e per questi ragazzi.